l'inaspettata comparsa di fumero nel racconto di padre fernando ramos che sul sottoscritto aveva avuto l'effetto di una doccia fredda su fermin ebbe conseguenze più evidenti diventò giallo come un limone e cominciarono a tremargli le mani è solo un calo di pressione improvvisò con un filo di voce a noi del sud il clima caldo catalano ogni tanto gioca brutti scherzi vuole un bicchiere d'acqua chiese il prete preoccupato se per sua signoria reverendissima non è di troppo disturbo e magari anche un cioccolatino sa per il glucosio il sacerdote gli versò un bicchiere d'acqua e fermin lo vuotò in un sorso ho delle caramelle di eucalipto vanno bene lo stesso dio gliene renda merito fermin si mise in bocca una manciata di caramelle qualche minuto più tardi aveva ripreso un po di colore quel ragazzo il figlio del custode che aveva sacrificato lo scroto per difendere le colonie spagnole è sicuro che si chiamasse fumero francisco javier fumero sicurissimo lo conoscete per caso no rispondemmo all'unisono padre fernando aggrottò la fronte non mi stupirebbe francisco javier è diventato tristemente famoso non siamo certi di aver compreso avete capito benissimo francisco javier fumero oggi ispettore capo della squadra criminale di barcellona purtroppo è conosciuto anche da chi non ha mai lasciato queste mura e lei quando ho pronunciato il suo nome per poco non sveniva adesso che ci penso quel nome mi è vagamente familiare padre fernando ci guardò severo dite la verità questo ragazzo non è il figlio di julian carà è un figlio spirituale eminenza il che sul piano morale è assai più importante che razza di imbroglio è questo chi vi manda ebbi la netta sensazione che da un momento all'altro saremmo stati cacciati in malo modo e decisi di giocare la carta della sincerità ha ragione padre non sono il figlio di julian carà ma non ci manda nessuno qualche anno fa ho letto per caso un suo romanzo un libro considerato introvabile così ho cercato di sapere di più sull'autore e di chiarire le circostanze della sua morte il signor romero de torres si è offerto di aiutarmi dissi che libro era l'ombra del vento lo ha letto ho letto tutti i romanzi di julian li ha ancora il sacerdote scosse la testa posso chiederle che fine hanno fatto anni fa qualcuno è entrato nella mia stanza e li ha bruciati ha idea di chi possa essere stato fumero naturalmente non è per questo che siete qui fermin e io ci scambiamo uno sguardo perplesso l'ispettore fumero perché avrebbe dovuto bruciare quei libri e chi se no l'ultimo anno di scuola francisco javier tentò di uccidere julian con lo schioppo del padre se miguel non lo avesse fermato perché cercò di ucciderlo julian non era il suo unico amico francisco javier era ossessionato da penelope nessuno se n'era accorto neppure la stessa penelope con ogni probabilità non sapeva neanche che lui esisteva fumero aveva nascosto il suo segreto per anni a quanto pare spiava julian un giorno forse lo vide baciare penelope non so quello che so è che tentò di ucciderlo davanti a tutti miguel moliner che stava allerta gli balzò addosso e lo bloccò accanto all'ingresso c'è ancora il foro della pallottola ogni volta che ci passo davanti mi rammento di quel giorno cosa accadde a fumero lui e la sua famiglia furono cacciati dal san gabriel suppongo che francisco javier abbia trascorso un po' di tempo in una casa di correzione torniamo ad avere sue notizie solo alcuni anni dopo quando sua madre morì in quello che venne fatto passare per un incidente di caccia miguel aveva avuto ragione fin dall'inizio francisco javier fumero è un assassino se le raccontassi sussurrò fermin beh vi sarei grato se mi raccontaste qualcosa a voi qualcosa di vero intendo possiamo garantirle che non è stato fumero a bruciare i suoi libri allora chi è stato? un uomo col volto sfigurato dal fuoco che si fa chiamare la incubare non è? sì è il nome del personaggio di carà il diavolo padre fernando si appoggiò allo schienale della poltrona confuso almeno quanto noi in tutta questa vicenda appare sempre più importante il ruolo di penelope che è anche la persona di cui meno sappiamo precisò fermin temo di non potervi aiutare l'ho solo intravista da lontano due o tre volte tutto quel che so me l'ha raccontato julian e non è molto l'unica persona che ogni tanto nomina penelope è giacinta coronado e chi sarebbe? la governante aveva cresciuto i due ragazzi aldaia e li adorava soprattutto penelope a volte veniva a prendere gli orghe da scuola perché don riccardo non gradiva che i suoi figli trascorressero un solo secondo senza essere sorvegliati giacinta era un angelo sapeva che anch'io come julian venivo da una famiglia modesta e ci portava sempre la merenda convinta che patissimo la fame le avevo spiegato che mio padre era il cuoco del collegio che da mangiare ne avevo ma lei continuava imperterrita a volte la aspettavo all'entrata e scambiavamo quattro chiacchiere è la donna più buona che abbia mai conosciuto non aveva figli e neanche un fidanzato che si sapesse si era dedicata anima e corpo a iorghe e a penelope la amava profondamente ancora adesso parla di lei è rimasto in contatto con giacinta quando posso la vado a trovare all'ospizio del santa lucia giacinta è molto anziana ed è sola al mondo il signore per motivi imperscrutabili non sempre ci premia in questa vita fermine e io ci scambiamo un'occhiata e penelope? non è mai andata a trovare la sua vecchia governante lo sguardo di padre fernando si incubì nessuno sa che fine abbia fatto penelope per giacinta quella ragazza era tutto quando gli aldaia emigrarono in america la sua vita non ebbe più scopo e perché non l'hanno portata con loro? domandai e penelope è partita col resto della famiglia per l'argentina? domandai non lo so nessuno ha più visto penelope né saputo nulla di lei dopo il 1919 l'anno in cui Carae è andato a Parigi osservò fermin spero che non andrete a disturbare quella povera vecchia per rattristarla con ricordi dolorosi per chi ci ha preso vossignoria? rispose fermin quando capì che non avrebbe saputo altro padre fernando ci strappò la promessa di tenerlo informato sui risultati delle nostre indagini fermin si offrì di giurarglielo sul nuovo testamento che il sacerdote teneva sulla sua vecchia scrivania lasci stare il vangelo mi basta la parola non me ne fa passare una eh? che caratterino venite vi accompagno all'uscita ci scortò in giardino fermandosi a un paio di metri dal cancello padre fernando guardò quel tratto di via serpeggiante che conduceva al mondo reale come se temesse di dissolversi se fosse avanzato un solo passo ero molto addolorato quando ho appreso la notizia della scomparsa di Julian disse in tono sommesso benché il tempo e gli eventi ci abbiano allontanati siamo stati grandi amici Miguel Aldaia Julian e io e anche Fumero ero convinto che non ci saremmo mai separati ma la vita ci riserva sempre delle sorprese non ho più avuto amici come loro e non li avrò mai più le auguro di trovare quel che cerca Daniel